La pianta più assurda che puoi coltivare. È cresciuta fino al tetto. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi parleremo di una pianta tra le più assurde che possiamo coltivare nel nostro giardino. Questo ortaggio è la zucchina trombetta, una pianta che si può estendere per svariati metri, sia in larghezza che in altezza. In questo caso l'ho coltivata dai primi di maggio ed è già arrivata quasi al tetto di casa mia. Infatti non ho avuto neanche la decisione tra coltivare in giardino oppure sul balcone. Infatti questa pianta la sto coltivando in giardino, ma i frutti li raccolgo sul balcone al primo piano. Si è lasciata crescere lei a un portamento strisciante, infatti vaga per il nostro terreno fin dove trova un ostacolo, una struttura dove potersi arrampicare. Quindi l'ideale è dar noi una struttura alla zucchina trombetta, quindi o piantarla vicino già a una struttura come può essere una recensione, oppure cercare di mettere dei pali, creare noi una struttura per farla arrampicare. Ricordiamoci però che la struttura deve essere abbastanza solida, perché lei comunque col tempo cresce molto e i suoi frutti sono molto pesanti, quindi il rischio è che se la struttura non è molto stabile poi si pieghi oppure addirittura cada a terra. Se invece lei striscia per terra, troverà una vittima, perché prima o poi arriverà vicino magari a un albero da frutto, oppure vicino ai pomodori e tenderà ad arrampicarsi sopra gli altri frutti. Proporzionalmente alla pianta anche i frutti possono diventare davvero enormi, grandissimi, possono raggiungere anche il metro di lunghezza con la tipica forma a trombone, per quello zucchina trombetta. Infatti la zucchina non è rettilinea, ma tende a incurvarsi con poi alla fine un maggiore ingrossamento. Di questa pianta ovviamente possiamo mangiare sia i fiori che i frutti. I fiori sono i tipici fiori di zucchina, di zucca, molto buoni da mangiare. Sia i frutti li possiamo mangiare già da quando sono piccoli, tra virgolette piccoli, sui 20-30 centimetri, fino poi anche alle dimensioni massime di un metro o più. L'importante è mangiare però il frutto quando è in stadio di crescita, perché vuol dire che comunque il frutto è ancora acerbo, ma buono per noi, perché se poi si ferma di crescere e inizia a maturare, matura i semi, e diventa più una zucca. Io mi applico molto nella coltivazione e meno nei fornelli, quindi se volete scrivere nei commenti delle ricette particolari che si possono fare col frutto della zucchina trombetta, fatelo perché è davvero arricchente per tutti. Non si tratta solo di un ortaggio, ma anche di una pianta ornamentale. Infatti la zucchina trombetta la possiamo utilizzare per abbellire staccionate e pergolati. Oltretutto il vantaggio qual è? Che è una pianta che cresce velocissima, quindi se la piantiamo ai primi di maggio, già a giugno avremo l'ombra per il nostro pergolato. Farà ombra per tutta estate, una bellissima ombra, perché lei ha questi foglioloni che riescono proprio a intercettare tutta la luce. Raccoglieremo ovviamente i frutti che però anch'essi sono molto belli da vedere. E a fine stagione, in autunno, quando il pergolato in ombra non ci serve più, lei seccherà, perché comunque è una pianta annuale che vive solo una stagione. E noi in inverno avremo proprio occasione di fare manutenzione alla nostra struttura, perché la pianta secca la andremo a togliere completamente e noi se dobbiamo comunque aggiustare il pergolato oppure riverniciarlo, lo potremo fare senza nessun ostacolo. Con altre piante altrettanto belle come possono essere il gelsomino e il glicine, non si può fare perché sono piante che vivono decenni e quindi poi la manutenzione diventa complicata. Addirittura nel caso, ad esempio, del glicine, la pianta cresce così tanto che va proprio a rompere lei stessa la struttura, perché tende a attorcigliarsi sul palo e poi proprio a stritolarlo. Nel caso invece la zucchina trombetta questo non è un rischio. Anche in termini di agroecologia è una pianta che può dare il suo contributo. Infatti alla base dell'agroforestazione c'è proprio la coltivazione a livelli. Quindi coltivare più in alto piante che crescono di più e che vogliono più luce e man mano che scendiamo piante che vogliono sempre più ombra. Infatti la zucchina trombetta ama tantissimo la luce. Noi possiamo farla crescere su delle strutture per poter ombreggiare gli ortaggi che cresceranno sotto. Ovviamente non tutti gli ortaggi vogliono così tanta ombra, però ad esempio le insalate crescono benissimo con un po' di ombra, quindi potremmo avere un pergolato con la zucchina trombetta e sotto coltivarci degli ortaggi a foglia. La stessa cosa vale anche magari per l'orto autunnale e invernale perché a fine estate fa ancora molto caldo e certi ortaggi come ad esempio alcune brassicacee il caldo estivo lo soffrono un pochettino. Quindi noi potremmo pensare di fare l'orto autunnale e invernale sotto la zucchina trombetta e dopo passato qualche settimana, qualche mese, la zucchina trombetta comunque morirà, la tireremo via perché comunque arriva l'autunno e quelle piante avranno più luce per potersi sviluppare al meglio. Ovviamente noi la quantità di luce la possiamo regolare perché possiamo fare un pergolato molto alto dove magari la luce arriva la mattina e arriva il tardo pomeriggio e quindi la zucchina trombetta evita il sole solo delle ore più calde quindi anche quello più dannoso oppure possiamo coltivare la zucchina trombetta solo in verticale quindi con delle staccionate e fare ombra solo per una parte di giornata. Allo stesso tempo questa pianta è molto resistente alle potature quindi anche se abbiamo un pergolato e notiamo che comunque la zucchina si è espansa molto ha fatto tante foglie, alcune le possiamo tagliare e possiamo tagliare dei rami proprio per far penetrare più luce. Concludiamo nel dire le cose essenziali da fare per coltivare bene la zucchina trombetta. Diciamo che è una pianta abbastanza rustica, non ha chissà quali esigenze o malattie. Ovviamente come tutte le cucurbitacee ha bisogno di abbastanza acqua la si può bagnare praticamente tutti i giorni, io la mia zucchina trombetta la bagno una volta ogni tre giorni però quando la bagno la bagno in abbondanza soprattutto perché qua lei deve spingere in verticale per 5 metri e poi ha l'occasione di andare in posizione orizzontale solo dopo svariati metri in cui deve comunque pompare molta linfa e molta acqua quindi la bagno in maniera abbastanza abbondante è una pianta come tutte le zucchine che soffre un pochettino l'oidio quella malattia, quella malattia fungina che crea la pattina bianca sulle foglie nel caso della zucchina trombetta però fatta arrampicare soprattutto in maniera molto verticale questo non accade perché c'è molta circolazione d'aria invece se la zucchina trombetta è allevata in maniera strisciante per terra bisognerà fare qualche trattamento magari con la ziolite o comunque con degli antifungini potete notare che anche se ha dovuto fare tantissimi metri in altezza lei qui riesce a produrre moltissimi frutti infatti qua ogni 30-40 cm ci sono dei frutticini che stanno crescendo ci sono per ogni internodo una bella foglia con anche il fiore e addirittura questa altezza sta comunque cercando di fare delle radici infatti qua ci sono delle gemmette radicali perché se lei dovesse trovare terra anche a questa altezza emetterebbe nuove radici il trucco per avere delle buone piante e dei buoni frutti è ovviamente avere un buon terreno questo vale per tutti gli ortaggi ma vale soprattutto per delle piante come la zucchina trombetta che sono molto esigenti a livello nutrizionale perché devono crescere tantissimo è imparagonabile l'energia che può metterci un'insalata a crescere rispetto a una zucchina trombetta che deve crescere per decine di metri quindi quello che è importante è anche concimare un po' il suolo con questo il video si conclude spero sia stato interessante e che vi abbia stimolato un po' interessato nella coltivazione della zucchina trombetta magari se non l'avete già fatto anche voi l'anno prossimo la coltiverete fate i bravi con le piante e fate i bravi con la zucchina trombetta ciao a tutti ciao a tutti